Ciao, sono Paolo Baci e vi presento questo Zephyr Roller Team 295 TL Select su meccanica Ford. Un bel mezzo con un grande garage. Questo è il letto per traverso, quindi un camper che vi farò vedere molto ampio. Questo è il volume variabile, quindi si alza fino a questa altezza, quindi un garage enorme. Grande garage, un grande letto superiore. Quindi d'estate, quando dovete mettere le cose alte, biciclette, moto e quant'altro, potete alzare e abbassare. E questo viene leggermente ancora più basso. E ora andiamo al suo interno. Quando c'è il letto per traverso su 699, come questo, si crea sempre una grande zona giorno. Quindi questo camper è due grandi matrimoniali. Una qui che scende basculante, che poi vi faccio vedere, e una posteriore. Oltre a una bella zona giorno c'è anche una bella cucina. Guardate questo grande piano d'appoggio. Queste finiture, questa è la copertura che fa da copertura e poi anche da piano porta oggetti. Oggetti, eccolo qua. Guardate com'è rifinito, contenitori, porta carta, una bella vasca profonda e tanti cassetti. Come anche quest'altro sportello. Guardate quanto com'è capiente. Qui c'entra veramente tante cose. Frigorifero con la sua vasca portabottiglie e congelatore. Oltre ad avere anche questo piccolo spazio che non è mai troppo. Quando c'è il letto per traverso c'è anche un bell'armadio. E anche il contenitore sotto. Poi cosa hanno fatto? Proprio come vi dicevo del letto variabile hanno messo queste scalini. Che quando è basso, oltretutto va ancora più basso, basta semplicemente salire in questo modo. E ora vi faccio vedere. Eccomi qua. Qua ci sono le luci. Un bello blu. E una bella finestra. Con i vari pensili. Quando il letto è più alto, allora a quel punto si usa anche questo scalino. Guardate. Eccomi qua. E quindi uso la facilità per andare nel letto posizionato alto. Il WC. WC. Questa è la seduta. C'ha una finestra. C'ha l'oblò sul doccia. E quindi c'è un bello scambio d'aria sia per odori che per il caldo. Un bel lavello. Guardate. E poi il suo pensile. E anche sotto. La doccia, come vedete, questo scalino, permette di stare larghi nel lavarsi e anche un po' più stretti all'interno. Quindi è funzionale. E guardate. Io mi chiudo con la sua chiusura che... Non so se riuscite a vedermi. Ecomi qua. Che mi muovo bene. E questo è il letto vasculante con l'accesso sia dalla parte posteriore con la scaletta oppure l'accesso tramite la seduta dei posti guida. Alla protezione davanti e di dietro per i bambini. Ecomi qua. Io sono un metro e ottanta. Guardate. Ci sto bene. Ci si sta bene in due. Perché anche se chiude la possibilità di starci le spalle è la cosa più importante. Quindi ci si sta bene due adulti. Benissimo. Con due bambini. Questa è la zona giorno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Fino a sette persone ci possiamo stare. Questo è il tavolo che si muove. Avanti, dietro, destra, sinistra. E poi guardate questa bella finitura della plancia. Se volete guardare la scheda di questo campo e cliccate nella vostra destra in alto e si aprirà la scheda del nostro sito. Consiglio anche quello di iscrivervi al nostro canale YouTube per vedere sia prodotti presentati come questo sia anche proposte di viaggio, pillole tecniche e quant'altro. Quindi venite a trovarci e che vi faremo vedere questo camper e i tanti campi nuovi in pronta consegna offrendovi i tanti servizi caravambaci. Ciao. Ciao.